Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisa, benvenuti alla Zisa TV, visto che stasera ho preso la pizza, torneremo a parlare anche di birra e porterò la birra che mi ha regalato mio padre per il compleanno, il cofanetto con sei birre più il suo bicchiere, il suo boccale. Stiamo parlando della Té de More, è una birra belga bionda ad alta fermentazione, tant'è che 8,1% di alcol, il tappo iconico della Té de More, abbiamo il teschio che beve la birra, diciamo che l'immagine è bellissima e questo è il suo boccale personalizzato proprio a forma di teschio con scritto Té de More. Andiamola a versare, questa si beve proprio nel suo boccale, la sua morte è proprio il suo boccale. Allora, come possiamo vedere abbiamo una schiuma bella compatta, birra bionda color paierino, quindi un biondo leggero, note di pane, di crosta di pane, veramente buona. Wow, in bocca ricorda quasi quasi una rossa, bella corposa, bella pastosa al palato, abbiamo note di pane, quindi di cereale, di frumento, tutto ciò che ricorda la birra sembra di stare in un forno. Una bionda che non ha i classici sentori della bionda, ma che quasi quasi va sulla birra un po' più bruna a livello di sapore, a livello di persistenza al palato. Veramente buona, io questa ve la consiglio sia come aperitivo da stuzzichini che anche con una cena come una bella pizza. Accompagnerebbe bene anche una bistecca, è veramente un'ottima birra per chi ama le birre belghe e per chi ama le birre ad alta fermentazione. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se l'avete mai provata, se vi piace, cosa ne pensate, io con l'ultimo sorso vi saluto e ci vediamo al prossimo video.